Altro incidente mortale lungo le strade agrigentine a perdere la vita nella tarda mattinata di oggi in un sinistro avvenuto sulla statale 644, la bretella di collegamento tra Campobello di Licata e Ravanusa è stato un infermiere di Ravanusa in servizio presso l'ospedale di Canicatti Filippo Vasapolli di 40 anni l'uomo viaggiava a bordo di un Opel Vectra che si è scontrata con un SUV alla cui guida si trovava un altro infermiere di Ravanusa e anche egli in servizio al barone Lombardo di Canicatti Angelo Ciotta di 49 anni con lui in auto la figlia ventenne Claudia per Vasapolli non c'è stato nulla da fare l'uomo è deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nel violento impatti feriti invece di occupanti del SUV il più grave e Angelo Ciotta trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicatti, le ambulanze del 118 ed i carabinieri della stazione di Ravanusa